Sandro Busatti, consigliere comunale a Città di Castello di Fratelli ed Italia. Inutile negarlo, a Città di Castello monta la polemica tra commercianti e amministrazioni. I piccoli commercianti si sentono un po' messi da parte. Un po' messi da parte? Io direi totalmente messi da parte. La verità è che l'amministrazione comunale è al soldo di Perugia ed è al soldo di quelle conventicole, chiamiamole così, che propugnano i grandi centri commerciali, le ipercop di futura costruzione, non sappiamo tra quanti mesi, ma comunque sia hanno già deciso di farla, piuttosto che andare a cercare il tessuto sociale dei nostri piccoli commercianti che si ritrovano regolarmente sbattuti in fondo alla lista di quelli a cui devono essere dati aiuti, contributi, qualsiasi tipo di sovvenzione, anzi al contrario, sono ipertassati e tartassati. Addirittura in quelle poche occasioni in cui a Città di Castello si riesce a fare qualcosa, le fiere di San Bartolomeo è una tradizione storica, avevano promesso che quest'anno avrebbero riportato le fiere in centro anche per dare spazio a quel minimo di veicolo turistico che può essere la fiera di San Bartolomeo. Ebbene no, ebbene le fiere sono rimaste fuori. Cosa antipatica, cioè cosa veramente triste. E infatti i commercianti si sono messi d'accordo per protestare ufficialmente con dei manifesti. Facciamo un po' di passi indietro. A dire il vero si era parlato tanto di rilancio del centro storico, delle attività del centro storico, di creazione del centro storico naturale, di coinvolgere i commercianti attraverso un numero importante di manifestazioni. Però molti commercianti invece vedono il nascere, il proliferare, di attività di grande impatto. Soprattutto mi riferisco a grandi centri commerciali che sembra tolgano lavoro alle piccole attività. È assolutamente così. E in realtà ci troviamo nella crisi più profonda che la nostra zona abbia attraversato proprio a causa, per colpa, di coloro che vogliono far passare la loro qualità, le loro iniziative qualificanti per i territori ed importanti. Sono assolutamente nulle e in vano protestiamo in Consiglio Comunale. Purtroppo non veniamo ascoltati. Torniamo ad esempio al bilancio del Comune. Pensate che quest'anno avevano inserito 800 mila euro per il palazzetto dello sport, quando poi non l'hanno nemmeno fatto, ma se l'avessero dovuto fare, comunque era stato preferito dall'amministrazione, dal sindaco Bacchetta, mettere 800 mila euro su un capitolo di spesa, piuttosto che sgravare di tasse i cittadini tartassati, in particolare le categorie economicamente più impegnate, in nome dello sport, o meglio, non dello sport praticato, ma piuttosto dello sport di squadra, quello come, d'altra parte, abbiamo 67 mila euro l'anno dati per la gestione dell'impianto sportivo dello stadio comunale, come il bubone, vogliamo così definirlo, di Polisport, che continua ad essere per i cittadini un pozzo senza fondo in cui centinaia di migliaia di euro tutti gli anni vengono impozzati, vengono infilati, cavati dalle nostre tasche e dati a un'azienda assolutamente improduttiva e incapace di produrre reddito, beh, questa è la dimostrazione di come l'amministrazione conduce i suoi giochi. Tagliando magari delle spese che lei considera improduttive e che lei ben conosce, essendo consigliere comunale, si potrebbe a questo punto cercare di abbassare un po' l'imposizione fiscale su cittadini e imprese e magari dare un po' di ossigeno al rilancio della sfittica economia del nostro comprensore. Ma questa polemica, tra l'altro, poi non è propria solo del nostro centro-destra, ma anzi, al contrario, ci troviamo sempre più spesso d'accordo con le opposizioni, anche di sinistra, per riclamare non una politica degli annunci dell'inaugurazione. Non so se l'avete vista, io mi rivolgo ai nostri, ai suoi ascoltatori, per dire quanto sono buffi, quanto sono anacronistici quella compagnia di giro fatta dalle stesse persone, sempre le stesse che rappresentano l'amministrazione, che si muovono da un'inaugurazione a quell'altra, pensando così di riuscire ad avere ulteriori voti magari per le prossime elezioni. Non hanno capito che i tempi delle inaugurazioni sono finite? Non hanno capito che la gente non può più vedere quelle facce che si presentano ad inaugurare qualsiasi cosa possa capitare, perché vogliono fatti, vogliono cose, vogliono realtà? Faccio un altro esempio. Si è parlato tanto della Fondazione Burri, ha visto le polemiche nei mesi scorsi. Ebbene, ma è possibile che il sindaco di Città di Castello non possa andare a bussare a quella porta per chiedere che l'importantissima piazza Garibaldi, che dovrebbe diventare poi piazza Burri, per cui i lavori di rifacimento di questa piazza possano essere fatti direttamente pagati da una fondazione ricchissima, che sicura è vero dell'opera di un pittore, ma è anche vero che il pittore l'ha fatta per la città, per cui per poter dare alla città delle risorse nuove, della nuova vitalità. Pensate che su quella piazza dovrebbe venire un monumento, un monumento realizzato da Burri, che dovrebbe essere il centro della piazza. Ebbene, sindaco, abbia il coraggio di andare a chiedere questi quattrini a chi li ha. Qui non abbiamo più soldi, non ha più soldi nessuno, signor sindaco. Che cosa rischia il comune e città di Castello? Se lei va a guardare il bilancio, il bilancio chiude in attivo, quando mai il bilancio del comune non chiude in attivo? Ma è una cosa finta, cioè si vanno a impoverire delle voci di bilancio estremamente importanti, si va a conservare, d'altra parte è anche giustificabile, l'aspetto del bilancio sociale, cioè il favorire le famiglie meno ambienti, ma magari, forse sarebbe il caso, che queste famiglie meno ambienti, prima guardiamo le nostre famiglie, quella povertà grigia di chi, cittadino di città di Castello, non ha il coraggio di venire in comune a chiedere, magari perché gli staccano la luce, mi è accaduto questa mattina, piuttosto che andare a favorire, senza offesa per loro, a persone di etnie diverse che possono venire in questa città cercando disperatamente aiuto, beh, prima ci sono i nostri cittadini, io credo che chiunque non possa che essere d'accordo con me. Brevemente, avete quantificato i tagli che potrebbero essere apportati senza togliere nulla allo Stato sociale? Ma qui, diciamo, è un problema di politica. Allora, faccio un ragionamento breve, ma mi deve consentire. Se noi favoriamo, ad esempio, altri comuni regalano, o quantomeno creano, danno la possibilità a condizioni agevolatissime ad aziende di fuori, di portare lavoro a città di Castello, facendo cosa? Dicendo ti detasso quel terreno, ti do il terreno a un prezzo stracciatissimo, facciamo un esempio, vabbè, c'è l'ultimo della BIM di città di Castello che si è trasferita, 56 operaia a spasso, si è trasferita in un comune che ha regalato letteralmente loro il terreno per poter costruire l'azienda. Beh, questa è la politica. Il comune deve mettere via quattrini, parliamo di cifre, parliamo di un milione di euro all'anno che possa essere destinato allo sviluppo economico. Parliamo per cui di fare, sì, enesimi tagli, magari nominando meno dirigenti come hanno fatto adesso, recentissimo, hanno nominato un altro dirigente che andrà a prendere 60-70 mila euro puliti all'anno. Beh, questo è un sistema che non può durare, non può continuare. Noi dobbiamo pensare che quando non ci sono i quattrini si fa una politica avveduta, ma soprattutto si favorisce lo sviluppo, per cui investire un milione di euro all'anno nello sviluppo per portare aziende o per detassare le aziende che producono, per me è la soluzione fondamentale per risolvere questo problema. In ultimo, parlando di polemiche, sembra montare anche la polemica sul Festival delle Nazioni di Città di Castello. Certo, il Festival delle Nazioni è un evento unico, evento culturale importante della nostra città, il quale purtroppo continua a essere saccheggiato da improvvidi profittatori che non sono sicuramente cittadini normali, ma sono spesso e volentieri politici o piuttosto amici di politici, i quali esuffluiscono di una manna di biglietti gratuiti. Parliamo che solo per la prima serata ce ne sono 250 di biglietti gratis. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà questo Festival incassa molto meno di quanto viene dichiarato, ma che quel gusto di poter fare elemosina di questi biglietti determina questa situazione. e dopo c'è la scusante, per cui ad esempio tutti noi consiglieri comunali siamo stati invitati alla prima serata con tanto di cena. Beh, io per quanto mi riguarda ho rinunciato con molta tranquillità e con molta serenità, perché se voglio andare alla prima serata del Festival mi pago il biglietto. Questa cosa dovrebbero impararla anche i nostri politici. Concludo con una battuta. Mi è capitato di essere invitato al Festival delle Unità a Modena. Bene, a questo Festival delle Unità per motivi diversi, cose di protezione civile, sono andato e ho trovato il Presidente della Provincia, i sindaci del luogo, i consiglieri comunali che servivano a tavola. I nostri amministratori locali, la nostra giunta abituata a frequentare le sagre varie che ci sono qui in giro, a mettersi a sedere e a mangiare a scrocco. Imparassero dai loro compagni dell'Emilia Romagna che il modo di comportarsi nei confronti dei cittadini è ben altro. Chiaramente quello che dice sotto la sua responsabilità, consigliere. Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Se lei va a guardare il bilancio, il bilancio chiude inattivo, quando mai il bilancio del Comune non chiude inattivo? Ma è una cosa finta, cioè si vanno a impoverire delle voci di bilancio estremamente importanti, si va a conservare, d'altra parte è anche giustificabile, l'aspetto del bilancio sociale, cioè il favorire le famiglie e meno ambienti, ma magari forse sarebbe il caso che queste famiglie e meno ambienti, prima guardiamo le nostre famiglie, quella povertà grigia di chi cittadino di città di Castello non ha il coraggio di venire in Comune a chiedere magari perché gli staccano la luce, mi è accaduto questa mattina, piuttosto che andare a favorire senza offesa per loro. A persone di etnie diverse che possono venire in questa città cercando disperatamente aiuto, beh, prima ci sono i nostri cittadini, io credo che chiunque non possa che essere d'accordo con me. Brevemente, avete quantificato i tagli che potrebbero essere apportati senza togliere nulla allo Stato sociale? Ma qui diciamo è un problema di politica, allora faccio un ragionamento breve ma mi deve consentire. Se noi favoriamo, ad esempio, altri comuni regalano o quantomeno creano, danno la possibilità a condizioni agevolatissime ad aziende di fuori di portare lavoro a città di Castello, facendo cosa? Dicendo ti detasso quel terreno, ti do il terreno a un prezzo stracciatissimo, facciamo un esempio, vabbè, c'è l'ultimo della BIM di città di Castello che si è trasferita a 56 operai a spasso, si è trasferita in un comune che ha regalato letteralmente loro il terreno per poter costruire l'azienda. Beh, questa è la politica. Il comune deve mettere via quattrini, parliamo di cifre, parliamo di un milione di euro all'anno che possa essere destinato allo sviluppo economico. Parliamo per cui di fare, sì, enesimi tagli, magari nominando meno dirigenti come hanno fatto adesso, recentissimo, hanno nominato un altro dirigente che andrà a prendere 60-70 mila euro puliti all'anno. Beh, questo è un sistema che non può durare, non può continuare. Noi dobbiamo pensare che quando non ci sono i quattrini si fa una politica avveduta ma soprattutto si favorisce lo sviluppo per cui investire un milione di euro all'anno nello sviluppo per portare aziende o per detassare le aziende che producono per me è la soluzione fondamentale per risolvere questo problema. In ultimo, parlando di polemiche, sembra montare anche la polemica sul Festival delle Nazioni di Città di Castello. Certo, il Festival delle Nazioni è un evento unico, evento culturale importante della nostra città il quale purtroppo continua a essere saccheggiato da improvvidi profittatori che non sono sicuramente cittadini normali ma sono spesso e volentieri politici o piuttosto amici di politici i quali esuffluiscono di una manna di biglietti gratuiti. Parliamo che solo per la prima serata ce ne sono 250 di biglietti gratis. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in realtà questo Festival incassa molto meno di quanto viene dichiarato ma che quel gusto di poter fare elemosina di questi biglietti determina questa situazione. Dopo c'è la scusante per cui ad esempio tutti noi consiglieri comunali siamo stati invitati alla prima serata con tanto di cena. Beh, io per quanto mi riguarda ho rinunciato con molta tranquillità e con molta serenità perché se vuoi andare alla prima serata del Festival mi pago il biglietto. Questa cosa dovrebbero impararla anche i nostri politici. Concludo con una battuta. Mi è capitato di essere invitato al Festival dell'Unità a Modena. Bene, a questo Festival dell'Unità per motivi diversi cose di protezione civile sono andato e ho trovato il Presidente della provincia i sindaci del luogo i consiglieri comunali che servivano a tavola i nostri amministratori locali la nostra giunta abituata a frequentare le sagre varie che ci sono qui in giro a mettersi a sedere e a mangiare a scrocco imparassero dai loro compagni dell'Emilia Romagna che il modo di comportarsi nei confronti dei cittadini è ben altro. Chiaramente quello che dice sotto la sua responsabilità consigliere. Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.